Un ring, due corpi che combattono la tensione mentale e muscolare che scorre tra i lottatori, le emozioni, le espressioni, i colpi assestati sull'avversario. Questa è la box di Leonard Bundu, immortalata nelle foto di Davis Weiss. Il fotografo americano è entrato nella palestra dove si allena il campione e questi scatti non sono i soliti momenti colti sul ring. Ciò che emerge dalle fotografie della mostra Esportrait è il ritratto di un giovane uomo la cui vita è in simbiosi con il pugilato, la sua professione e il suo sport. I ritratti del campione di Freetown, da tempo naturalizzato italiano e fiorentino d'adozione, svelano l'intensità del nobile sport della box in un allestimento composto da stampe di grande formato. Weiss esalta i colori velluto di stampo caravaggesco e li carica di simbolismo sulla tavolozza della carta stampata. Bundu, allievo dell'Accademia Pugilistica di Campo di Marte, è campione europeo dei pesi welter e ha difeso due volte il titolo lo scorso anno. La doppia impresa merita una mostra fotografica, quella che gli dedica proprio il fotografo David Weiss al Ganzo in Via dei Macci a Firenze. Le foto in bianco e nero di questa galleria si riferiscono al combattimento contro Djakevics e quelle a colori alla sfida contro Perry.